Alleluia! Allora, fratelli cari, oggi non è Pasqua, perché qui dobbiamo un attimo, perché tutto quello che cambia, le cose che diceva domenica, tutto è cambiato, tutto è cambiato, allora vede che adesso le chiese partecipano alla settimana di passione, fanno quasi sepolcri, una volta si ricorda che si faceva lo struscio, nel senso si andava in tante chiese per cercare l'indulgenza il venerdì sera e quando ero bambino il venerdì sera non ci facevano neanche giocare a pallone, perché c'è Gesù a terra, non si può giocare a pallone, allora non possiamo neanche cambiare le macchine, pensavo io, la gente non potrebbe volare, ma solo al pallone non ci facevano giocare e quello che sembrava una liberazione avuta il giorno in cui siamo usciti dalle grinfie della religione, poi in qualche modo insomma sembra che si ripresenti poi e allora vedendo ultimamente, oggi c'è questo strumento di Facebook che ti fa vedere in tempo reale tutto quello che accade nelle chiese e allora tu vedi che insomma molte cose stanno ritornando, le feste, addirittura la festa, la Pasqua ebraica, insomma tante cose che sotto un aspetto culturale potrebbe pure essere interessante, anche storico, capire delle cose ma l'Apostolo Paolo disse che Cristo è la nostra Pasqua, Cristo è la nostra Pasqua ed egli non è legato a un periodo storico ma vive tutti i giorni, vive tutti i giorni se andiamo di questo passo dovevamo poi festeggiare Pentecoste, dovevamo festeggiare un po' tutte quelle che, ma ogni festa, ogni festa del Vecchio Testamento era un tipo di cose che dovevano avvenire, lo scrittore degli ebrei dirà è ombra di luce che doveva venire, ma una volta che è venuto Cristo, noi lui abbiamo tutto pienamente, però è una buona opportunità in questo giorno parlare della resurrezione, ho fatto questa premessa per non far credere o capire qualcuno che noi oggi festeggiamo la resurrezione di Gesù, noi predichiamo la parola di Dio che in questo giorno può essere interessante e che può essere anche così di disposizione mentale e culturale di tante persone a quella che è la Pasqua, la Pasqua voi sapete che è una festa ebraica che fu celebrata alla fine o durante le dieci piaghe perché ha preceduto l'ultima delle piaghe che era poi la morte del primogenito del faraone e di tutti i primogeniti d'Egitto, fu figurata dall'agnello mangiato che era il tipo di Cristo che doveva venire, la soluzione e la providenza fatta da Dio e da questo sangue che veniva così messo sugli stipiti delle porte e quando lo sterminatore passava non si fermava nella casa degli ebrei, proseguiva infatti proprio la parola Pasqua significa passare oltre, dove vedrò il sangue passerò oltre. Quindi questo è quello che avvenne. Poi coincise la Santa Cena, l'istituzione di Gesù è coincisa con quel giorno e Gesù è resuscitato il giorno della Pasqua e questo per noi ha un significato, ripeto, non tradizionale ma un significato spirituale che conserviamo nei nostri cuori. La religione fa in questi giorni una grande proiezione e manifesta i muscoli, per cui vediamo a livello mondiale le vie crucis, le lavande dei piedi, le famose lavande dei piedi di cui anche a volte alcuni credenti rimangono un poco storditi davanti a queste cose, questa è un'altra storia, però noi siamo chiamati a vedere le cose dal punto di vista biblico, spirituale e capire quello che Dio ha in servo per noi. La chiave della Resurrezione è quello che diceva poco fa Fratello Franco dicendo Gesù ha detto sto pregando ancora, perché questo è uno dei motivi della Resurrezione. Questa mattina io volevo parlare con voi di questo, perché è risolto Gesù, qual è la Resurrezione. Innanzitutto era necessario che Gesù morisse per noi, era necessario perché la Bibbia dice che senza lo spargimento di sangue non c'era emissione di peccato, la Bibbia dice pure che ci voleva il sangue di uno giusto e questo giusto non c'era sulla terra, quindi tutto il rispetto ai mediatori creati dagli uomini, ai santi, alle figure materne non c'era uno giusto sulla terra. L'apostolo Paolo si verrà ai romani, non c'è nessun giusto, neppure uno ma questo era scritto anche nel Vecchio Testamento, non c'è nessun giusto, ci voleva il sangue di uno giusto un agnello provveduto da Dio e come il Signore ha provveduto l'agnello il giorno nel quale si stava per sacrificare Isacco, Dio ha provveduto come il Signore ha indicato agli ebrei che festeggiavano la Pasqua la necessità di sacrificare un agnello, così Dio ha provveduto l'agnello nel suo figlio Cristo Gesù e il suo sangue non è stato messo sugli stipiti delle porte ma è stato messo sui nostri cuori e ci ha dato la salvezza per cui lo sterminatore è passato oltre, noi siamo stati risparmiati ma la morte di Gesù anche se necessaria e anche se di grande valore così sperimentale, teologico culturale anche se vogliamo, era necessaria ma quello che più era, se Gesù non fosse suicidato una morte, staremo a celebrare oggi un martire e qui potremmo mettere le corone davanti al martire come si fanno, come si fa nelle celebrazioni, al milite ignoto, all'eroe della patria Gesù non è stato un martire, Gesù si è donato per la nostra vita e la sua reservazione è stata necessaria per ognuno di noi. Il nostro problema è che a volte cariamo un poco in una trappola religiosa e dove come dicevo prima forse non abbiamo le esagerazioni celebrative che hanno alcune chiese o alcune religioni ma se noi non sperimentiamo Cristo vivente siamo religiosi ugualmente. Se la nostra fede non è fondata sulla resurrezione e sulla certezza che il Signore è in mezzo a noi non serve a nulla. Quindi potremmo celebrare e raccontarci di un Gesù che è venuto con parole d'amore e di speranza, che ci ha lasciato dei Vangeli dove sono le sue parole, le sue azioni, ma se noi non sperimentiamo che Gesù è risolto noi avremo una fede inutile. Ora la parola di Dio che è davanti a noi ci racconta una storia particolare, la storia della resurrezione dove queste donne, vedete, non avevano perso la devozione, non avevano perso la devozione, queste donne sono il simbolo di una chiesa che molte volte non perde la devozione ma perde la resurrezione e si perde il meglio per cui va a celebrare un Dio lontano e vedete è troppo facile ed è così facile che la fede diventi una ideologia. Ci sono persone che per ciecavare hanno fatto chissà cosa e alla fine era un rivoluzionario, ma ancora oggi chi se lo fa il tatuaggio sul braccio, chi lo celebra nelle bandiere, chi si mette la maglietta, un'idea con un capo molto che è inoffensivo, non fa niente. Sapete il motivo per cui quando ammazzano questi dittatori e li fanno vedere a tutto il mondo? Per dire guardate non fa più niente, è qui, è inoffensivo. Ma di Gesù questo nessuno l'ha potuto fare, nessuno ha potuto mostrare il corpo ucciso, nessuno ha potuto mostrare l'immagine sfigurata e dire eccolo qua, è sepolto, non c'è più niente da fare, sì l'hanno mostrato al tempo, ma il terzo giorno Gesù è risolto. Ma se noi come chiesa non ci appropriamo di questa resurrezione noi ci troveremo come queste donne, una devozione, vedete stanno facendo dei doveri, stanno andando lì perché vogliono imbalsamare il corpo di Gesù. Hanno visto tutte quelle cose che l'hanno sfigurato, Gesù ha bisogno il suo corpo di essere lavato, purificato, improvumato, secondo l'usanza, la cultura degli ebrei, c'era bisogno di fare tutto questo e la mattina sono andate al sepolcro per dire noi manteniamo una devozione per Gesù, anche se l'hanno fatto a pezzi, anche se abbiamo visto che non aveva più né forma di uomo, non aveva più le sembianze di un essere umano, non aveva più né forma né bellezza, dirà Isaia, prefigurando il martirio, la crocifissione di Gesù. E allora queste donne prese da pietà dissero andiamo a curare il corpo morto di Gesù. E questa è la religione. E questa è quando noi sfuggiamo dalla certezza che il Signore è vivo. La nostra vita è difficile, fratelli cari, come abbiamo ascoltato, sono nei momenti in cui noi ci sentiamo soli, nei momenti in cui ci sentiamo tristi, nei momenti in cui ci sentiamo delusi, nei momenti in cui ci sentiamo amareggiati. Ci sono momenti che vorremmo evitare dalla vita nostra, però molte volte noi non riusciamo a evitare questo. La vita ci costringe a fare i conti con le realtà e a volte anche a seguito di nostri errori, raccogliamo un po' quello che abbiamo seminato. Ci troviamo molte volte in dei problemi seri e dove cerchiamo soluzioni attorno a noi e anche noi vogliamo fare qualcosa per Gesù, vogliamo ungere un corpo morto, ma Gesù è vivo, è reale e la nostra sola speranza di trasformazione è nel fatto che Gesù è vivo. Molti credenti vivono come se Gesù fosse ancora morto. Molti credenti hanno occhi pieni di disperazione, mente piena di oppressione, cuori oppressi e depressi e si va quando noi non crediamo che Gesù è vivente e che lui veramente è la soluzione, noi poi andiamo in tante altre cose. Tornando al nostro passo di Luca 24 dal verso 2 trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro ma quando entrarono non trovarono il corpo del Signor Gesù e mentre se ne stavano perplessi di questo fatto ecco che apparvero davanti a loro due uomini in vestiti splendenti, a loro tutto impaurito e chidarono il viso a terra, ma quelli dissero ma perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui ma è resuscitato. Ora non ce la prendiamo con queste donne perché noi facciamo peggio, noi facciamo peggio, noi cerchiamo il Signore tra i morti, noi cerchiamo il Signore nella religione, la religione è morta, tutto quello che l'uomo fa non ha vita, la carne non giova a nulla, sono opere morte, religiose che non ci possono in nessun modo portare fuori dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà. Ogni tentativo dell'uomo che esclude la resurrezione e la vita di Cristo è cosa blasfema ed è cosa che non porta benedizione e soluzione alla vita delle persone, è il sudore dell'uomo, non serve a niente, è l'incapacità dell'uomo, è il fallimento dell'uomo e molte volte Dio permette un percorso anche lungo affinché siamo sfiniti e stanchi e dove finalmente possiamo dire Signore, Signore dove sei? Ma dove mi stai cercando? Dove mi stai cercando? L'apostolo Paolo dovette dire anche ad Atene, il Signore ha stabilito che adesso dopo questo periodo di cecità e di buio, un tempo di davverimento perché si cercano Dio ma lo cercano a tastone come ciechi, non possono trovare dove Dio è. Eppure è così reale il Signore e lo stupore di questi angeli è sconcertante, a volte la Chiesa scandalizza gli angeli, ma che cosa fate? State cercando il Signore tra i morti, ma avete capito voi in chi avete creduto? Ora se è vero che noi a volte cerchiamo il Signore, il vivente tra i morti, io voglio dirti questa mattina che il vivente ti sta cercando, il vivente sta cercando i morti tra i viventi. Perché a volte nella Chiesa dove ci sono persone viventi ci sono anche alcuni che sono morti. E allora potremmo ricambiare questa cosa e dire il Signore questa mattina vuole cercare i morti tra i viventi. Mentre noi cerchiamo il vivente tra i morti, Gesù cerca i molti tra i viventi e dice questa mattina io ti vorrei dare la vita, questa mattina io ti vorrei rimettere in piedi, questa mattina io vorrei farti del bene, ma il fondamento della tua fede deve essere un fondamento basato proprio su questo, sulla certezza che il Signore è vivo. Se no tutto questo è un teatro, se Cristo non è risuscitato, ma che cosa ci facciamo qui? Se noi non abbiamo una speranza di un cambiamento vero e reale, se noi non pensiamo che la nostra vita possa cambiare, possa cambiare anche in un modo immediato con l'aiuto di Dio, noi in chi abbiamo creduto? La Chiesa non è un centro benessere, la Chiesa non è, non facciamo musica di rilassamento o un training di autoesaltazione o autoconvincimento, la Chiesa non è una struttura di psicologia o di psichiatria, la Chiesa è il luogo dove vive Cristo, dove si muove in mezzo a noi e dove chiunque lo tocca riceve benefici dalla sua potenza e dal suo amore. Questa è la Chiesa e questa è l'adorazione, questo è il culto cristiano riuniti nel suo nome, signore siamo riuniti nel tuo nome, perché gli ci ha fatto una promessa? Quando voi vi riuniti io starò in mezzo a voi. Vedete a volte noi abbiamo una fede inutile che non serve a niente. La Bibbia dice se Cristo non è stato risuscitato, inutile dunque è la nostra predicazione e inutile è la vostra fede. Quando noi veniamo in Chiesa noi dobbiamo dire signore questa è la tua parola e nella tua parola io metto la fede, ho i problemi, ho le difficoltà, è vero, ho i peccati signore, ho le mie imperfezioni, ho i miei limiti, per io credo signore che la tua parola è la parola di un vivente e che se io mi sono così rovinato in qualcosa, sono inaridito, sono morto in qualcosa, signore tu hai possibilità di fare questo. Gesù disse a una Chiesa avete nome di vivere ma siete morti, hai fama di vivere ma sei morto? Dio sta cercando i molti tre viventi e sta dicendo io ti voglio fare del bene, voglio metterti in piedi, voglio che tu possa avere una fede molto semplice ma molto efficace, molto semplice ma molto efficace. Questo è quello che il Signore cerca da noi, se Cristo non è stato risuscitato inutile è la vostra fede e addirittura, addirittura se non è risuscita noi non siamo neanche salvati, siete ancora dei vostri peccati, vedete se abbiamo avuto fede che Gesù ha salvato la nostra vita dei peccati noi dobbiamo credere allora che il Signore è capace di fare qualsiasi opera dentro di noi, se noi non crediamo in questo allora abbiamo qualche problema anche con la salvezza, abbiamo qualche problema anche con la salvezza perché se io non credo che Gesù è reale, è vivente e che la morte non lo ha trattenuto allora c'è qualche problema e posso dire allora io sono ancora dei miei peccati perché questo è un discorso teologico, pratico che Paolo affronta dicendo qui stiamo vanificando la predicazione, il culto, la salvezza, stiamo vanificando tutto e allora quando tu credi che Gesù è risolto nel vivente tutto il tuo modo di essere, il tuo stile di vita è condizionato dalla resurrezione, la resurrezione ti condiziona in un modo meraviglioso perché tu sai che non sei solo, Gesù è sempre con te, c'è il timore di Dio nella tua vita, c'è la presenza di Dio nel tuo cuore e Dio, Dio ti aiuterà, vedete il Signore quando è risuscitato ha dato ampie dimostrazioni della sua vita, è apparso a più di 500, è ai suoi, è apparso alle donne, è apparso a Maria che piangeva e che stava così piena di confusione, Gesù è apparso molte volte ma addirittura Giovanni quando ha una rivelazione del Signore Gesù si presenta e dice ascolta io sono il primo e l'ultimo, il vivente, ero morto ma sono tornato in vita per i secoli, dei secoli cioè non sarò più sottoposto a questo, il sacrificio di Cristo è irripetibile, egli ha fatto questo una volta per sempre e si è posto a sedere nei luoghi celesti alla destra di Dio Padre, è un sacrificio efficace che percorre tutta la storia e fino a quando il Signore non tornerà non ci saranno altri sacrifici perché il suo è sufficiente, il suo basta, il suo è potente da poter cambiare la nostra vita però voglio chiederti ancora con onestà, cosa ne stai facendo tu della resurrezione di Gesù? Se la tua fede è piena di confusione e di buio non c'è la luce della resurrezione, se il tuo cammino è così oscurato non c'è la luce della resurrezione, la nostra predicazione deve servire a questo, fratelli Gesù è vivo, lui stesso dice di sé sono stato molto ma sono vivente, non abbiate paura, sono presente, la Bibbia dice chiaramente che il Signore ha tutto il potere, tutto il dominio, dice che il suo trono è al di sopra di ogni altro trono, Gesù dirà ogni potere mi è stato dato in terra ma anche in cielo, il dominatore, il Signore, il re assoluto, il sovrano, il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega dice non temere perché io sono vivente, io sono vivente, gloria al Signore e allora la resurrezione deve esserci nella nostra fede, non la possiamo escludere, se escludiamo la resurrezione noi entriamo in dei meandri pericolosi di scienze, di religione, di sudore umano, di tecniche, di ritmi, di musica, di ricreazione dove tutto dovrà servire a sostituire la presenza del Figlio di Dio, ma tutto è buono ma niente sostituisce, la cosa più importante che è la presenza del Signore, tutto può essere in accordo a questo, io voglio suonare per dare gloria a Dio vivente, io voglio rallegrarmi anche in un agape ma dando gloria al Dio vivente, l'Apostolo dirà fate ogni cosa alla gloria di Dio, ogni cosa alla gloria di Dio, ogni cosa che esalta il Signore e che lo magnifica in mezzo a noi, quindi quando noi escludiamo la resurrezione noi entriamo nella grande illusione, la grande religione, non c'è la religione più pericolosa della nostra, non sto parlando della religione pentecostale, evangelica, ma la nostra, cioè noi abbiamo sperimentato i doni di Dio, abbiamo gustato il battesimo nello Spirito Santo, noi abbiamo percepito la presenza del Signore che ci ha cambiato la vita, noi siamo nati di nuovo non per educazione ma per esperienza, noi siamo stati toccati dal Signore e quando noi sostituiamo nella nostra vita la rivelazione con tutte le convinzioni non c'è niente di più pericoloso di quello che noi crediamo, perché noi abbiamo toccato davvero la gloria di Dio, ma attenzione come abbiamo iniziato così noi dobbiamo continuare, se no noi rischiamo di allontanarci dal Signore e allora ci sono nelle nostre vite i momenti difficili, però ricordiamoci questo, non trasformiamo mai la nostra fede in un'ideologia, noi non seguiamo fascismo, comunismo, rivoluzionari vari, noi seguiamo non un ideale, non un'idea, noi seguiamo Gesù, noi seguiamo il Signore il quale ci rivela man mano i suoi proponimenti per noi, ci rivela il suo cuore, ci rivela anche la verità che è nella sua parola e la verità non è sfruttata da noi e non deve essere sfruttato come qualcosa che riempie di conoscenza la nostra vita ma che riempie di direzione la vita nostra, di rivelazione di chi il Signore è e di quello che egli fa nella nostra vita e per la nostra vita, gloria al Signore e allora Dio fa questo per noi e noi abbiamo bisogno di proseguire nel Signore, sai perché Gesù è risolto? era necessario che lui si suscitasse perché poi lui ti doveva salvare, qualcuno potrà dire vabbè ma io non ho avuto l'esperienza dell'Apostolo Paolo che ha sentito la voce di Gesù che gli ha detto Saulo, Saulo perché mi perseguiti? Ma Dio ha usato persone, lui stesso ha parlato al tuo cuore, sono stati dei momenti dove tu hai potuto sperimentare nella tua confusione, ha sperimentato che Gesù era vivente perché hai sentito la sua presenza, mentre qualcuno ti parlava da parte sua, mentre qualcuno ti offriva la possibilità della salvezza e ti evangelizzava dichiarandogli la buona notizia Gesù stesso testimoniava al tuo cuore e permetteva la tua salvezza, la resurrezione è vera se no tu non staresti qui oggi, non ti ha parlato un uomo, Dio ha usato un uomo per parlare al tuo cuore, lui stesso ha avuto proponimenti per la tua vita, lui stesso ti ha fatto del bene, Dio stesso ha fatto questo per te, ecco perché non era soltanto necessario che Gesù morisse, era necessario che Gesù risuscitasse e poi sono state delle situazioni così difficili nella nostra vita dove il nostro comportamento a volte era così ostile alle cose di Dio dove c'è stato bisogno veramente di una grande rivelazione e Gesù ha fatto questo, ora chi avrebbe potuto convertire una belva come l'apostolo Paolo, una belva scatenata, ma il Signore è risolto, lo ha affrontato, gli ha detto io sono Gesù, quello che tu perseguiti, alleluia, abbiamo testimonianza oggi che nel mondo musulmano tanta gente sta ricevendo testimonianza da Gesù stesso attraverso sogni, visioni, apparizioni, ci sono libri scritti da donne che hanno ricevuto questa visitazione da parte del Signore, non credo che si siano inventate le cose, abbiamo testimonianze di persone perché dove c'è tante volte persecuzione, dove la Chiesa a volte non osa, Gesù stesso si presenta personalmente e rivolge nella sua sovranità, nella sua signoria, egli sceglie alcune persone alle quali lui stesso va ad evangelizzare. Qui è successo a Paolo, poi vediamo che altre persone sono state evangelizzate da uomini, ma qualcuno riceve da Dio stesso questo, ma anche quando tu hai ricevuto da persone, Dio è sempre stato vicino a te. E poi abbiamo ascoltato, Gesù sta pregando ancora, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, molti di noi siamo qui per la preghiera di Gesù, non per la nostra preghiera. Vedete, tante volte quando apriamo i nostri cuori portiamo tante di quelle cose dalla nostra vita, dove sembriamo a volte maltri, a volte a volte sembriamo persone che hanno subito tanto dalla vita e sembra che il Signore vedendo le sofferenze del nostro cuore ci ha fatto del bene, non illuderti, le tue sofferenze non ti apriranno mai il cielo, il cielo tu l'ha aperto il sangue di Gesù, le sue sofferenze, il suo amore per la tua vita, non ti saresti mai potuto salvare attraverso umiliazioni, attraverso ferite, attraverso delusioni, attraverso offese, attraverso calunnie, molta gente subisce questo ma non è salvata. vedete Hitler è vero che ha perseguitato gli ebrei ma ha perseguitato gli omosessuali e non perché perseguitati uno va in cielo perché stava in quella situazione e così anche altri dittatori e altre persone che hanno perseguitato, hanno fatto soffrire popolazioni interi, una popolazione alla fame, nella sofferenza a causa di dittatori ma la sofferenza non ci apre il cielo. Gesù è la via, la verità è la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. E allora tu devi capire questa mattina che la resurrezione ti serve a te, ti serve tanto perché Gesù ha pregato tanto per la tua e per la vita mia. Egli prega per l'unità della Chiesa, egli prega per il nostro comportamento, egli prega proprio perché noi abbiamo dei pericoli, ricordiamo dei pericoli che nemmeno ce ne accorgiamo. Egli prega, vedete a volte quando qualcuno guarisce, una volta sentivo in questi giorni un fratello insomma che dicendo che ha rivelazione da parte di Dio, dice Dio ci ha usato di me per guarire questo, per guarire questo, per guarire questo, per battezzare a quest'altro, per fare quest'altro, per evangelizzare quello. Sare le cari, quello che facciamo è perché Gesù prega, ma chi è sufficiente a queste cose? L'Apostolo Paolo che poteva mandarsi molto più di tanti di noi disse, o di tutti noi, disse queste capacità vengono dal cielo, le capacità vengono dal cielo, per la grazia di Dio io sono quello che sono. Noi non abbiamo i poteri, fratelli cari, la resurrezione è la nostra speranza. E allora il Mediatore è resuscitato e adesso Gesù sta pregando per noi, abbiamo scampati tanti pericoli, ci ha salvato da tante fosse. Se guardiamo gli anni che sono alle nostre spalle, forse oggi siamo buoni e mansueti in una chiesa, forse, ma Dio nel passato ci ha preservato da tentazioni, peccati, cadute, sviamenti dottrinali, errori comportamentali, delusioni che noi abbiamo dato. Dio ci ha salvato da tante cose. Perché? Perché la Bibbia dice che il Signore è resuscitato e alla destra di Dio e adesso Egli intercede per noi. Gloria al Signore. Questa è la mia buona Pasqua, sapendo che il Signore è resuscitato e sta pregando per me. E alla destra di Dio. Lo scrittore degli ebrei al capitolo 7, il verso 25, dice Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio dal momento che vive per sempre e che intercede per loro. Quello che è il peso del tuo cuore è anche nel cuore di Gesù. Non hai passato e non sei riuscito a uscire dalle acque o dal fuoco per le tue capacità. Non ti vantare mai di questo, ma devi dire è stata la grazia, la misericordia e la potente preghiera del Figlio di Dio che mi ha permesso di stare qui. Nonostante tutti i problemi e le difficoltà, nonostante le situazioni della vita, sei passato per il fuoco, non sei stato bruciato, ma non perché hai una corazza invulnerabile o sei ignifugo, o sei passato per le acque non perché sei un anfibo, sei una rana o un pesce, ma perché Gesù ha pregato per te. Perché quando quegli uomini erano nella fornace o gli uomini li contavano, ma noi ne abbiamo messi tre, come mai ce ne sono quattro? Perché il Signore è con te sempre, egli prega per te, Gesù è risuscitato e la sua resurrezione mi dà questa garanzia che quando io mi metto a pregare io so che c'è qualcuno che è più grande di me. A volte quando la tua preghiera sembra così piccolina, così insignificante e il diavolo gli dice questa preghiera è tua, non arriva neanche al soffitto, tu dici va bene, è vero, ma arriva dal soffitto, Gesù la prende e se la porta davanti a Dio perché egli intercede per te. L'importante è che tu fai la tua preghierina, non ti preoccupare, il diavolo gli dice, preghierina piccolina piccolina, ma il Signore saprà come potenziare perché egli stesso intercede per te. Quando tu pieghi le tue ginocchia, a volte tu ti ginocchi davanti a Dio, ma a volte ti consiglio di credere in questo, che quando tu ti pieghi e pieghi le tue ginocchia, guarda a fianco a te, c'è qualcuno di grande, di potente, di meraviglioso che si inginocchia a fianco a te e dice preghiamo assieme, preghiamo assieme e allora la tua piccola preghiera la fidi nelle mani del Signore, Gesù a te il Padre ti sente e allora la sua preghiera diventa una forza per te. Questo non esclude la tua preghiera, non esclude la tua partecipazione, non esclude la tua comunione, ma ti chiama ad essere a fianco al Signore e Lui ti farà del bene, ti aiuterà perché Egli è colui che prega per te, il vivente prega e prega per te. E a volte noi abbiamo bisogno anche della resurrezione perché sono momenti di fallimento nella nostra vita. Anche questo, ma allora non ha pregato abbastanza Gesù, non ha pregato abbastanza e se non fosse stata per la preghiera di Gesù tu dopo che hai sbagliato il senso di colpa ti avrebbe ucciso, ma non solo il senso di colpa perché alcuni non hanno questa capacità. Ci sono alcune persone che non avendo vita spirituale non hanno neanche il senso di colpa perché per loro è tutto normale, no? Tutto normale e non avendo relazione con Dio non si sentono mai indegni. Però quando invece tu ti senti indegno, quando come l'Apostolo Pietro tu piangi amaramente perché hai fatto un danno, perché hai offeso il Signore e allora in quel momento tu ti trovi nella confusione, sei una persona che ha fallito, ti dimentichi le promesse che Dio ti ha fatto e sei in una situazione di solitudine. Ma sì, me ne sono portati altri appresso, ti vedi anche un cattivo esempio, però erano sette uomini ma sette uomini soli, ognuno era solo di suo, anche se erano assieme, ognuno aveva la solitudine, il ghiaccio nel cuore, ognuno di loro sapeva che aveva perduto una possibilità e che forse non gli sarebbe mai più stata restituita quella di seguire Gesù. Ma il Signore risolto si presentò a Pietro dopo la resurrezione e gli disse se tu mi ami tu continuerai a lavorare con me e per me. Questo è quello che ti chiede il Signore, questa è la tua forza. Nei momenti di difficoltà, forse hai fatto tante cose nella tua vita sbagliate, ma Gesù è risolto e questa mattina il Signore gli dice se tu sei disponibile ad amarmi io posso cambiare di nuovo la tua vita. E quelle cose che un giorno hai sentito nel tuo cuore, le promesse di Dio, tu sarai un pescatore di uomini, si avverranno davvero. Nonostante tu sia venuto meno, la resurrezione del Signore è la mia speranza, è la opportunità rinnovata. Dio ti restituisce non solo opportunità, ma Dio ti restituisce anche dignità affinché tu possa servire e servire il Signore. Quando ebbero fatto colazione Gesù disse a Simon Pietro, mi vuoi bene? Vedete Pietro diventerà un pastore molto importante, sarà un pastore che poi lui stesso consiglierà ad altri pastori come comportarsi, però lui stesso ha avuto bisogno del grande pastore. Pietro sarà usato da Dio per recuperare pecore perdute, ma lui si ricorda che lui stesso è stato una pecore perduta e che la resurrezione, il risolto, gli ha permesso di avere di nuovo speranza e possibilità nella sua vita. Noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno della resurrezione perché sono i momenti nei quali noi siamo così confusi. Due uomini, due discepoli che avevano seguito Gesù, loro lo seguivano come si segue Che Guevara, si erano esaltati, si erano gonfiati, si erano illusi perché avevano capito che Gesù avrebbe fatto una rivoluzione sociale e che avrebbe spotestato i romani e i potenti, li avrebbe mandati a casa come si direbbe oggi, no? Ma Gesù non li mandò a casa, anzi avvenne che Gesù fu ucciso e questi uomini che avevano un una convinzione personale del Signore perché la resurrezione ci serve anche per cambiare idea. Avevano una loro idea del Signore, a quel punto fu uno delusi e disse come è possibile che quest'uomo che doveva cambiare le soldi di Israele, quest'uomo che ci doveva dare la dignità sociale, quest'uomo che avrebbe dovuto essere il condottiero della Chiesa, è stato ridotto così e quando il Signore si avvicinò a queste persone perché lui era vivente ma loro non lo sapevano perché Gesù è vivo pur quando tu non lo sai, è vivo pur quando tu non lo pensi. Il Signore camminò assieme a loro e gli disse ma di che cosa state discutendo? Loro disse noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece guarda sono tre giorni da quando sono accadute queste cose e non succede nulla. Gloria al Signore perché risolto non ci tratta come meritiamo e quando abbiamo dei folli pensieri lui continua a camminare con noi, quando abbiamo perso le speranze lui continua a camminare affinché ci sia restituita la speranza alla nostra vita e il Signore che era risolto aprì i loro occhi e loro lo hanno riconosciuto ma appena riconosciuto Gesù è scomparso per fargli capire che egli era vivente. Se tu hai perso delle speranze nella tua vita Gesù è risolto non cercare soluzioni attorno a te e soprattutto verifica le tue convinzioni perché Gesù non aveva mai detto quello, avevano capito l'oro, avevano inteso l'oro ma poi hanno avuto rivelazione di chi veramente il Signore era e allora Gesù gli spiegò queste cose e ha donato di nuova speranza a queste due persone che erano lì e che quasi lo rimproveravano dicendo ma questo è l'ignorante non leggi i giornali, non sai quello che è successo, non sei informato, qui è successa la rivoluzione a Gerusalemme, è venuto un uomo e lo hanno ucciso ma Gesù parlò ai loro cuori e la Bibbia dice, la testimonianza biblica dice che il loro cuore bruciava d'amore si infiammò di nuovo di passione per il figlio di Dio, alleluia, noi abbiamo bisogno della resurrezione perché in questa nostra testa molte volte arrivano tanti dubbi, arrivano i dubbi sugli uomini, arrivano i dubbi sulle persone, arrivano i dubbi addirittura sulle persone più vicino a noi e come non arrivano i dubbi anche su Dio, anche sul Signore, qualcuno disse a Tommaso delle donne lo hanno visto e non ci credo, poi qualcun altro gli disse guarda ma che l'abbiamo visto anche noi, è entrato qui e Tommaso disse io non posso credere a questa pazzia della resurrezione, ma come non ce lo diceva lui prima che sarebbe suscitato, Tommaso aveva lo stesso atteggiamento di quelle donne che erano andate al sepolcro che volevano ungere un Dio molto, volevano loro fare qualcosa per Dio e non dicevano quello che Dio invece aveva per loro e in queste situazioni i dubbi lo hanno assalito ma il signore si presentò pure a Tommaso e disse, caro Tommaso, vieni qui, qual è il problema, vuoi mettere le mani, metti, vuoi vedere le ferite, eccole, era scritto che Tommaso cadde dicendo signor mio, Dio mio, alleluia, nei tuoi dubbi quante volte Gesù ti ha restituito la fede, molti di chi mi sono ripreso, eh fermo, mi ha rialzato, mi ha rialzato, escludi tutta tua vita, adesso mi sono ripreso, adesso Dio ti ha rialzato, Gesù ha avuto pietà della nostra vita, la sua grazia e la sua misericordia sono sufficienti per noi, a volte perdiamo il taglio, dimentichiamo la missione ma anche qui vedete questi uomini, erano tante persone che stavano lì e a un certo punto Gesù disse, sentite la resurrezione serve a questo, andate lungo per il mondo, evangelizzate, battezzate e disse anche e io sarò con voi sino alla fine dell'età presente, la resurrezione dovrebbe risvegliare in te il senso del servizio e sapere che tu non ti puoi nascondere e che tu non puoi fare della fede soltanto un fatto personale di benessere tuo, noi non abbiamo creduto in Dio solo per questa vita, noi abbiamo creduto in Dio anche per poterlo servire, allora la resurrezione mi serve per paurenziarmi, perché quando vado e dico siamo poche persone io so che Gesù è con noi, quando ci troviamo in un contesto ostile e di difficoltà, quando sembra che il mondo ci rigetta e ci odia, noi dobbiamo dire il Signore è con noi, siamo nella sua volontà, perché il risulto gli dice tu vai e io sarò con te, perché non sono molto, sono vivente e sarò con te tutti i giorni sino alla fine dell'età presente, ci sono momenti in cui la tentazione è forte eppure anche lì il Signore prega e intercede per la tua vita e ci sono momenti in cui la Chiesa ha paura, quando la Chiesa ha paura, ci sono momenti in cui la Chiesa nel mondo è esposta a particolari prove come quella della persecuzione, ti bussano alla porta e chi è? Oggi quando ci bussano alla porta noi diciamo entro ci sa qualcuno che vuole sentire la parola di Dio, ma in dei posti quando bussano alla porta ci chi è? La polizia? e devi stare attento, hai paura quando suonano alla porta, quando invece noi abbiamo una fede in un Signore vivente Gesù dice vi porteranno davanti ai re e ai governatori ma mettetevi dunque in cuore di non premeritare come rispondere a vostra difesa perché vi darò una parola e una sapienza alla quale tutti i vostri avversari non potranno opporsi e né contraddire il Signore anche nella prova, nella persecuzione il Signore sarà con te, ti aiuterà, ti darà parole e sapienza, intelligenza per poter testimoniare di Lui. Gesù è vivente e come abbiamo ascoltato Lui sta preparando la chiesa, la sta lavando, la lava con l'avato della sua parola, egli si prende cura di noi, sta lavando la nostra vita, si preoccupa che noi possiamo essere pronti al giorno dove noi dovremmo comparire davanti a sé e dovremmo comparire come una chiesa gloriosa senza guardare le brutture, le umanità, i peccati, le divisioni, le fazioni, tutto quello che è umano, quello che invece il Signore vuole che la chiesa compare davanti a sé gloriosa senza macchia, senza ruga e altri simili difetti ma che sia invece santa e reprensibile perché il fatto che Gesù è risolto significa pure che Gesù ritorna, alleluia, alleluia, Gesù ritorna, non dovrà uscire di nuovo da sottoterra ma dovrà scendere dal cielo, gloria al Signore. Adesso noi vogliamo concludere, vogliamo pregare, dobbiamo dire queste piccole cose che il Signore vive, vive tra di noi, questa è la potenza della resurrezione, adesso se tu hai una fede vera, reale, sincera tu puoi mettere i tuoi pesi sul Signore e anche se tu non hai problemi tu gli puoi dire Signore vorrei una carezza, vorrei un abbraccio da parte tua perché la fede molte volte è fatta di piccole cose, sono piccole cose che noi non possiamo disprezzare, a volte dobbiamo dire Signore vorrei sentire la tua presenza non perché ho i dubbi Signore ma perché Signore ti voglio amare e quando tu realizzi una fede nel risolto non credere che le emozioni non sono importanti, sono dei momenti in cui le emozioni sono speciali, sono necessarie, allora tu senti la presenza di Dio e tu li cominci a sciogliere, dici veramente Signore tu sei qui e quando tu realizzi la presenza del Signore ti succede come è successo a Tommaso, ti metti sulle tue ginocchia che dice Signore mio, Dio mio, io non merito nulla Signore ma tu sei vivente e reale e il Signore è qui e non generalizzare troppo, il Signore è qui per la tua vita, il Signore è qui per farti del bene, chiunque tu sia, se conosci il Signore o se non lo conosci ancora, il Signore è qui per te dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro, se Cristo non è qui abbiamo sbagliato tutto, abbiamo fatto scelte nella nostra vita, abbiamo fatto delle rinunce, se Cristo non è qui abbiamo sbagliato tutto, ma se Cristo è qui e Cristo è qui, la nostra vita ha una meravigliosa speranza e noi possiamo stringerci attorno a Lui, c'è problema, sei affaticato, sei oppresso, Gesù dice vieni a me, non sta dicendo muori, vieni a me, sta dicendo sono venuto io qui, la resurrezione esclude la tua morte, include la tua vita, perché cercate il vivente tra i morti, adesso invece il Signore sta cercando i morti tra i viventi, se tu sei un morto questa mattina, si stai trovato in difficoltà, il Signore ha dei buoni proponimenti per la vita tua, ti vuole dare vita, vogliamo alzarci in piedi, vogliamo entrare nella sua meravigliosa presenza? Alleluia, grazie Signore, perché la morte non ti ha spaventato, né la tua e neanche la nostra, quando ci vedi che abbiamo fama di vivere, ma siamo morti, Signore, tu hai ancora parole per noi, tu sei ancora alla ricerca della resurrezione nostra, alleluia. se la tua fede stava venendo meno, egli è venuto a cercare il morto tra i viventi, alleluia. Se anche stando in una chiesa, tu hai trovato nella tua vita dubbi, solitudine, paure, disperazione, oggi il Signore cerca il morto tra i viventi per darti la vita, per darti la vita. Alleluia, egli sta cercando il morto tra i viventi, se tu hai un'està nel tuo cuore, digli Signore, abbracciami, abbracciami e dammi la vita, restituiscimi la speranza, risolvimi il dubbio, rialzami, Signore ho problemi con la mia preghiera, il diavolo mi fa capire che la mia preghiera non serve a nulla, mi sta togliendo la forza per mettermi in comunione con Te, ma oggi, Signore, io ti sento a fianco a me, Signore, voglio darti la mano e pregare assieme a Te, voglio pregare assieme a Te, Signore, alleluia, egli vive e intercede per Te sempre, dai la tua mano al Signore in fede e prega con Lui, Padre, grazie perché mi hai dato il tuo figlio che è qui vicino a me adesso, è risolto, è vivente, grazie perché Lui si è molato per me, Lui è stato l'agnello provveduto da Te per la vita mia, Padre mi trovo nella confusione e nella difficoltà, Padre i dubbi hanno preso la mia mente, Padre ho fatto degli errori, ho peccato, non riesco ad alzare il mio sguardo verso di Te, man mano che tu preghi sentirai la mano del Signore che stringe forte la tua e dici continua, perché io porterò la tua preghiera davanti al Padre mio e tu ti ricorderai di quelle parole di Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, Padre io so che tu mi esaudisci sempre, alleluia, gloria del Signore, Padre perdonami perché non ti ho conosciuto per rivelazione, Padre perdonami perché mi sono condotto come se tuo figlio non fosse risuscitato, Padre aiutami a uscire fuori da questo momento difficile, Signore, Padre prenditi cura di me, Padre ho delle necessità, Padre ho avuto delle convinzioni nella mia mente che mi hanno allontanato dal tuo figlio ma adesso alla tua parola il mio cuore si è infiammato di nuovo, sento di nuovo un calore dentro di me, sento la mano di Gesù che stringe la mia, alleluia, non sono solo mentre prego, ho il figlio di Dio che prega per me e con me, alleluia, gloria al Signore, Signore la tua parola mi sta preparando perché faccio parte della tua chiesa, mi sta togliendo le rughe, le macchie perché io devo essere pronto per il tuo ritorno Signore, senza santificazione nessuno ti vedrà Signore, ma lavami, lavami, prima con la tua parola, poi col sangue prezioso del tuo figlio, lavami, rinnova dentro di me Signore uno spirito ben saldo, alleluia Signore, gloria a Gesù, è meraviglioso vivere con Gesù, camminare mano a mano con Lui, alleluia, sentire che non sei solo in nessun momento, anche dove è più difficile alzare lo sguardo al Padre e quando tu abbassi la testa e dici è troppo grande la santità del Padre, è troppo misera la vita mia, mentre tu preghi così colui che è a fianco a te mette la sua mano sotto il tuo mento e ti rialza il capo, alleluia, dice non preoccuparti, ho pagato io al posto tuo, io sono l'agnello provveduto da Dio, io sono l'agnello che si è immolato per darti la salvezza, io fui morto ma adesso sono tornato in vita e vivo per te, per farti del bene, io vivo per portarti nel cielo, alleluia, sarà la mia opera, sarà la mia preghiera, sarà la mia azione, alleluia, Egli può salvare perfettamente quelli che credono in Lui, perché Egli vive per sempre e intercede per loro, alleluia, alleluia, o adoriamo il Signore, sia adesso una cosa fra te e Lui, intima, personale, io credo che Gesù è qui, alleluia, un giorno ho ascoltato la sua parola, non capivo che cosa era, ma ho incominciato a sentire qualcosa di strano la vita mia, cominciavo a sentire una rivoluzione dentro il mio cuore, non stavo seguendo un ideale, ma il vivente era venuto a cercare un morto tra i viventi, ero in una chiesa di vivi, ma io ero morto, ma il Signore mi ha resuscitato, ha avuto pietà di me, oggi, se tu non hai ancora vita con Gesù, il Signore ti sta rialzando, è vicino a te per farti del bene, non sfuggire al suo amore, non ti chiudere al suo messaggio d'amore per la tua vita, Egli ti sta chiamando, avvicinati al Signore con tutto il cuore, Egli sta cercando il morto tra i viventi per darti la vita, o adoriamo il Signore, mentre l'adoriamo chiedi a Dio di toccarti con tutto il cuore, abbraccia il Signore, lasciati accarazzare da lui, non è illusione, non è illusione, non è mera emozione, ma la sua presenza prima entra nel nostro spirito, invade la nostra anima e si riflette anche nel nostro corpo, alleluia, tutto il mio essere glorifica il tuo nome, alleluia, sei il Tempio di Dio, Gesù vive nel tuo cuore, Gesù vive nella tua vita, alleluia, benedetto sia il nome del Signore.